benvenuti all'angolo di pagine d'autore una rubrica per entrare nel mondo dei libri se dietro le fotografie se dietro le fotografie non scriviamo nomi e cognomi già nel giro di due generazioni sarà tutto un coro un infinito coro di chini sulle foto a dire e questo e questa e questo bambino fratello cugino ma di chi nelle stagioni delle finestre spalancate usciranno nell'area infiniti echi di domande di punti di domande e questo e questa forse uno zio lontano una lontana zia ma quale zia e zia ero io 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 sono io la mia fotografia parliamo di poesia il termine poesia deriva dal greco poieo che significa fare produrre un testo poetico ci invita a riflettere a immaginare a percepire la bellezza del creato e altro ancora perché un testo poetico è fortemente polisemico così proviamo delle sensazioni uniche e tocchiamo con mano la meraviglia proprio come nei versi di vivian lamarck nella sua raccolta l'amore da vecchia pubblicata da mondadori vivian lamarck è una delle poetesse più apprezzate del mondo contemporaneo con la raccolta l'amore da vecchia ha vinto la prima edizione del premio strega poesia 2023 la sua opera poetica è stata raccolta nell'oscar poesie 1972 2002 autrice di una quarantina di fiabe tradotte in numerosissime lingue e lei stessa tradotto autori come baudelaire e valerie nell'amore da vecchia ci parla di un amore profondo diffuso che riguarda il mondo animale vegetale i treni il cinematografo i nipoti proprio per usare delle espressioni di vivian lamarck e il titolo non ci deve trarre in inganno perché i suoi versi sono freschi e vivacissimi e vivian lamarck sa usare e giocare con la parola riflettendo sul tema della morte e della vecchiaia e non emerge un quadro pessimista anzi lei è come una bambina che sa meravigliarsi di fronte alla bellezza della vita anzi lei dice che preferisce rimbambinirsi proprio per conservare quel lio bambino che dentro ognuno di noi nella raccolta poi affiore il tema del ricordo della memoria non mancano elementi e quadri della vita quotidiana e della città e luoghi di viaggi e anche e anche di mare ma è ben presente nell'amore da vecchia un generale senso della provvisorietà del del vivere della precarietà del del vivere che porta in sé una coscienza pervasiva del futuro fino all'inevitabile nulla fino a non esserci più fino al nostro ultimo pensiero e non manca neanche un'attenzione verso il presente con le sue imprevedibili minacce sempre in agguato vi leggo un'ultima poesia sul tempo il valore del tempo tu tempo è il tempo che passa o siamo noi a passare passa tu tempo dai noi lasciaci ancora un poco usare il bel verbo restare vi auguro allora buona lettura con la poesia di Vivian Lamarck la giusta cura per vivere il presente se volete seguitemi sul mio blog www.paginedautore.it oppure scrivetemi alla mia mail o mi trovate sui social facebook e instagram buona lettura www.paginedautore.it 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 Grazie a tutti.